cioè tornerei a Vegas è stato più bello però vedere la finals pure le finals qualsiasi cosa tu no però cavolo quando sono andato a vedere la partita in prima fila contro San Antonio perché praticamente ho avuto la fortuna anche di essere al Madison e vedermi Popovic a un metro poi appunto magari metto delle foto insomma impressione e quello è stato bello e tant'è che io mi sono molto meravigliato per dirti shout out to De Rosa ma tanto non guarderà mai questo video perché io essendo a bordo campo mi sono avvicinato perché tremando te lo giuro tremando con un foglio in pennarello lì ecco lì Marco Bellinelli è stato un pochino così diciamo non infastidito però si vedeva che ero uno del milione di volte che è successo e quindi tipo io dai italiano cosa fai vai al Madison se in prima fila c'hai Marco lì Marco Marco caccia la maglia Marco te lo giuro Marco Marco e lui così dammi tutto Marco faceva finta riscaldamento quindi palleggiava faceva finta così poi vedo che parla e mi ricordo con chi forse con no non mi ricordo tipo fatto sta uno si già fa italianz e Marco fa così si rigira si 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 gira però viene da me e tipo lo guardo e gli faccio ciao ciao Marco se qua da tanto gli faccio dieci minuti lo stavo tipo chiamando da un po' no e poi tipo mi fa tipo una firma così io probabilmente avevo gli occhi che luccicavano lo stavo guardando come tipo non lo so una degli one direction una bambina con gli one direction De Rosa mi vede mi vede così viene verso mi da il 5 mi da il 5 e io penso che la mia mano non è piccola ma io quando l'ho dato il 5 proprio ho sentito come se fosse se tipo Bigfoot tipo come proporzione un bambino gli fa where are you from gli faccio from Italy gli fa oh nice e tipo lì così cioè tipo grazie si 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 ancora più piccolo le faccio grazie così mi metto seduto e poi chiudo sta roba ma avevo pessina cioè no messina avevo messina avevo messina e popovic e Marco Marco viene si infatti a lui ho provato a parlare mi ha guardato malissimo facevo i video durante time out e non voleva comunque stavano giocare esatto ma era lì li facevo perché io volevo assolutamente la maglia di Marco per qualche motivo ambivo esatto Marco venne ho anche una foto la metto a legarsi le stringhe davanti a me proprio sul sul cornicione Marco ma se dopo la partita lui non mi risponde proprio non mi risponde mi ignorava e tipo poi guarda in basso si gira e quello accanto a me che appunto aveva lo stesso mio biglietto praticamente mi guarda mi indica tipo un foglio io non capivo leggo il foglio e c'è scritto che tipo appunto questi sono posti molto privilegiati e potresti essere buttato fuori in qualsiasi momento quindi lì stavo ho capito ma c'è quello che ti ha guardato tutto il tempo la rischia così no 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 sì persero persero perché i Knicks non vincevano mai però vinsero i Knicks non vincevano mai infatti poi aspetta aspetta scrissi a Matteo il fotografo Matteo avete presente chi è che lavorava lì esatto e li scrissi perché lo vedevo era a distanza anche lui italiano e gli ho scritto wow e lui mi fa ciao io le provavo tutte e l'ho fatto ma secondo te Marco me la dà dai se vincono penso di sì oh l'unica volta che i Knicks hanno vinto in casa contro San Antonio la sfiga di cui parlavamo prima tra l'altro io ricordo ho questo proprio ricordo di una puntata di più Amedeo di Emigratis che andarono da Marco Bellinelli dai da Gallinarie no no hanno fatto pure Bellinelli sì e mi ricordo che c'era questo particolare che lui quando perdeva proprio non rivolgeva parola a nessuno è uno che proprio la sente tantissimo la sconfitta quindi magari ti è andata male sì ma malissimo la sfoglia